Presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo, la squadra partenopea di calcio A5 che prenderà parte al campionato di Serie A. Gli azzurri dell'Ollo Caffè Napoli saranno guidati anche quest'anno dal giovane allenatore Francesco Cipolla. Le ambizioni sono alte, abbiamo messo in piedi un progetto ancora più importante rispetto agli anni passati. Cerchiamo di rispecchiare le aspettative del nostro pubblico, dei nostri partner e anche delle autorità che ci appoggiano nel progetto stesso. Il settore giovanile della squadra conta oltre 200 tesserati. Un progetto che guarda oltre lo sport, puntando ad offrire a molti ragazzi del territorio un percorso di crescita ispirato ai valori positivi della competizione atletica. Primo appuntamento con gli azzurri sabato 8 alle 18 sul campo di gioco del Palazzetto dello Sport di Cercola. Dobbiamo insieme alle istituzioni impegnarci tutti affinché ci siano le possibilità concrete per poterli far giocare in città. È la squadra della città ed è un peccato non averli uno dei nostri impianti che soffrono di alcune condizioni, ma ce la stiamo mettendo tutta per risolvere questioni legate all'agibilità, piccole questioni che a volte sembrano insormontabili, però se tutti quanti insieme andiamo verso lo stesso verso, allora credo che i problemi poi si risolvano.